Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Parleremo di Dante e la poesia del Novecento. La Divina Commedia è un poema di resurrezione e di rinascita. Col 2021, anno dantesco, vorremmo tornare a risorgere, a tornare alla vita normale. E proprio come quelle pecorelle di Purgatorio 3, poter uscire finalmente dal chiuso per permetterci quei beati incontri in presenza di cui abbiamo avuto il privilegio in questa Accademia di godere negli anni passati, incontri al momento negati. Ci tocca dunque inaugurare a distanza il ciclo di incontri del Polo Didattico, dedicati quest'anno a Dante, di cui celebriamo i 700 anni dalla morte. Gli incontri saranno cinque. Oltre al mio di oggi, sono in programma altre lezioni, quelle di Stefano Carrai della Scuola Normale di Pisa e di professori dell'Università di Torino, Donato Pirovano, Margherita Quaglino, Francesca Gemonat. E quanto a me, mi sono proposto appunto di parlarvi della presenza della lingua di Dante nella poesia del Novecento, età in cui in Italia versificatori eccelsi hanno continuato a restaurare con Dante una rete di strettissime e significative connessioni. Tralascio la prosa, ambito in cui hanno goduto di rinnovata fortuna alcune marcate riprese dantesche, quanto all'essico dovrei accennare anche alle minime, da Gadda a Fenoglio, per il quale mi viene in mente quel verbo di base onomatopeica, da lui molto amato come cricchiare, cricchiante, per suggestione certo di Inferno 32, non avria pur dall'orlo fatto cricchi eccetera, ma toccherebbe anche non dimenticare l'esteso rapporto intertestuale con l'opera dantesca nella prosa danunziana per esempio, la sua frequente contraffazione e ricreazione e andrebbe poi ricordato Primo Levi. Dante non è soltanto presente nella sua poesia, ma ampiamente lo è nella prosa ed è talvolta mascherato, come succede per esempio in Carbonio, che è del sistema periodico, là dove Levi parla delle tante storie di atomi che potrebbero raccontare la, dice, la natura dei loro trapassi, proprio come accade in Paradiso 14 quando parla del movimento di anime che sotto forma di luci si incontrano e si oltrepassano, Dante li paragona alle particelle del pulviscolo atmosferico che si muovono in un raggio di luce, ma è certo l'inferno a prevalere in Se questo è un uomo, nell'inferno del Lager, dove si rimanda espressamente a Cerbero quando risuonano nel Lager i, cito, barbarici latrati dei tedeschi quando comandano, eppure c'è un caronte, il nome che Levi dà al soldato che in un autocarro conduce al campo i deportati e dice che ci si aspetta che lui esclami, guai a voi, anime prave, ma occupa uno spazio considerevole il Dante, maestro e padre della lingua italiana, quando Levi, nel capitolo 11, insegna l'italiano a piccolo, usando il grande episodio del canto di Ulisse, Inferno 26. Dovrebbe poi aggiungere tante cose, il ricorso a Dante della Morante, nel rifacimento dell'episodio di Pier delle Vigne, in menzogna e sortileggio, oppure piloccare dai piccoli maestri o da Baosette di Meneghello, e magari tornare anche a Fenoglio, che lui ama usare verbi molto danteschi come enfio, si aderse, springo, oppure a quegli altri casi che hanno inteso proporre coincidenze tra dialetto e forma culta, vedi per esempio Pavese quando riecheggiava il Dante di Inco del Ponte di Purgatorio III, quando lui scrive Pavese nella Luna di Falò, capitolo 32, ci fermammo in Co della Vigna, oppure vedi Pietro Chioni, che in Banditi ci parla di un bue e delle sue piote, ecco coincidenze tra Dante e dialetto, dicevo. Ma non di prosa vi dicevo prima, intendo oggi parlare, bensì di poesia del Novecento, secolo nel quale due sono stati i nomi tutelari, Petrarca e Dante. Essi hanno offerto due toni, Petrarca l'equilibrio formale, una scrittura non aspra, non realistica, che doveva espungere il caratterizzato, il dialettale, il plebeo, e non dare risalto alcuno alla sperimentazione. E di Petrarca il Novecento tenne conto, nei momenti in cui la poesia fu più propensa a piegarsi verso soluzioni di strenua ricerca formale, penso naturalmente agli ermetici. Dante invece restava il rivoluzionario, appannaggio degli innovatori, e la commedia il modello della combinazione ritmica e lessicale più coraggiosa e linguisticamente divaricata, il modello insomma della forza e della marcatura capace di percorrere l'intera tastiera della lingua, dal basso all'alto. Petrarca chiuso e segreto, esatto, dall'armonia continuata, autore di un testo, possiamo dire, platonico, quasi congelato in una bellezza bloccata per sempre. Proponeva Petrarca opzioni smaterializzanti, stabiliva l'alfabetiere amoroso della lirica, come ha detto, come scrisse Sanguinetti. Dante invece, il poeta dell'ardire, teso nella commedia in formidabile direzioni espressionistiche. La sua poliglottia degli stili, come la chiamò Gianfranco Contini, realizzava che cosa? Realizzava con libertà non più usata per i secoli a venire, realizzava una lingua letteraria multiforme, capace di compendiare e disegnare la totalità dei possibili, tanto la crudezza del reale quanto l'impalpabile dell'etereo e dell'indicibile, il concretamente dicibile e lo sfuggente indicibile. Certo, a voler stringere il raffronto poi sui testi, il dantismo, Revora, Montale, eccetera, versus Petrarchismo, Ungaretti, Armetici, eccetera. Insomma, questa opposizione tra i due risulta nella realtà poi una riduzione di comodo, insomma, una opposizione di massima, dal momento che le scelte stilistiche dei poeti del Novecento ammettono quasi sempre una compresenza dei due, un dosaggio, un'alternanza dei due aspetti, un'alternanza di Dante e Petrarca. E ciò succede, per esempio, in Montale. E già era capitato, per esempio, in Sbarbaro, il quale, alla patida petrarchesca di Pianissimo, siamo nel 1914, faceva seguire, dopo Resine, la più dantesca di rimanenze. Ecco, un verso, so, due versi. Scarsa lingua di terra percossa dalla fersa, la fersa, dove brucia la canicola, aromi di selvagge erbe, più dantesco. Ma si vede poi Zanzotto, che negli ipersonetti, così li chiama, della raccolta Galateo in Bosco, che è del 78, 1978, Zanzotto, dicevo, poggia sul sostegno prevalente di Petrarca, ma nello stesso tempo riutilizza anche, per esempio, rime esposte, molto dantesche, tratte dalla selva dei suicidi, di Inferno XIII, Serpi, che rima con Sterpi, Serpi, Serpi, nell'ipersonetto VIII. Quella selva dei suicidi, espressamente poi richiamata in un componimento, dal titolo questione di etichetta, è proprio citato. Ma Zanzotto già, nella raccolta precedente, dal titolo Beltà, che è del 68, nel componimento proemiale, è la dantesca oltranza, così la chiama, sperimentale, congiunta alla ineffabilità del oltraggio, il titolo del componimento è oltranza-oltraggio, questo oltraggio da intendersi, come tra l'altro avverte l'autore stesso in nota, da intendersi come cosa che va oltre il limite, oltre la sopportazione, che è un riferimento palese a Paradiso 33, e cede la memoria a tanto oltraggio. Quindi questo oltraggio che è opposto specularmente alla poesia che chiude Beltà, che chiude la raccolta, che è questa poesia che la chiude, che è riferita a, cito, la madre Norma, e la madre Norma è ascrivibile quanto alla lirica al paradigma petrarchesco, non c'è dubbio. Ma, insomma, inoltrarsi in Zanzotto è complicato. Tra l'altro cercare, cito una cosa che ha detto Montale, cercare le fonti di Zanzotto sarebbe come individuare un ago nel pagliaio, diceva Montale. Comunque, nella tinta petrarchesca del Galateo in Bosco, tante sono le tinte infernali nel quadro dilaniato, nel quadro sconvolto, per esempio nella poesia che chiude la raccolta, che chiude Galateo in Bosco dal titolo Lattiginoso, dove, per esempio, vi compare la, cito, ruina, che in Dante richiamava le macerie di uno dei ponti franati nella boggia degli ipocriti. E Zanzotto fa rimare il vocabolo ruina con un altro vocabolo forte come uncina, rinnovando proprio una rima che era già dantesca, ruina, china, uncina. E tra l'altro in un contesto linguisticamente aspro, infernale, leggo solo pochi versi, la sigla del tuo grifo onnipresente smorfie volti di smorfia, a micchi ripicca uncina e atterrisce dal giù della ruina donde tubo per tubo è venuta la grifità del grifo. Ecco, questo per dire, insomma, in modo scorciato, riassuntivo, come entrambi questi progenitori, Dante e Petrarca, hanno nel Novecento costituito una paternità compresente e direi necessaria, necessaria nella poesia. Zanzotto comunque è poeta molto difficile e non indugio oltre, è anche difficile da proporre a dei giovani studenti e non sto ora a commentarlo ulteriormente, sono testi assai complicati. Come non sto a ricordare, perché qui sarebbe un lungo discorso, la compresenza dei due padri di lingua, Petrarca e Dante, che si era già largamente verificata e in modo molto rilevante nei secoli precedenti, venirebbe parlare di Ariosto, Leopardi, eccetera, eccetera. Quindi il canzoniere da una parte, ma è alla commedia in particolare che è stato assicurato nei secoli lo statuto di ipotesto ineludibile. Dante si era, pensate, imposto autorevolmente, addirittura come memoria ritmica e questo da subito, se è vero che un verso di Petrarca come al cader di una pianta che si svelse, nasce come? Nasce come ricordo ritmico timbrico di Inferno 6, uno al tornare della mente che si chiuse, ma poi l'eco si prolunga man mano tenacemente nel tempo per giungere attraverso i secoli fino a Ungaretti, da quando ti mirai e mai guardata la terra promessa. Una eco ritmica sintattica già riecheggiata da D'Annunzio dell'Alcione tra i Leandri e i Lavidi che si volse, è impressionante davvero questo trascorrere di timbri attraverso i secoli, la memoria di Dante poi rivive proprio in uno sciame di rime. Io avrei adesso l'imbarazzo della scelta chi citare, basti vedere soltanto Sanguinetti, in Sanguinetti quell'attualissima poesia tra l'altro dal titolo Ballata delle Donne che compare nel Gatto Lupesco raccolta del 2002 che è tutto costruito questo componimento su rime dantesche gioia noia torna raggiorna terra guerra umano umano pace piace è la memoria di Dante che rivive tra l'altro anche nel novecento in alcuni tipi di inarcature viene per esempio da Dante quel ripetuto quando sospeso nei poeti del novecento in punta in fine diverso e tralascio quegli innumerevoli esempi voglio poi ricordare la ripresa di una struttura metrica come la terzina e il suo movimento incatenato e ondulatorio che avrà fortuna dai poemetti pascoliani all'alcione all'amereo per l'annuncio ai crepuscolari al primo sabba al rebora delle poesie della conversione alle cenere di Gramsci di Pasolini sino al poemetto la tentazione di Patrizia Valduga per esempio al novecento poetico Dante approda veramente in maniera potente e non sempre si tratta di allusione perché sono anche per così dire voci che sono restate nell'aria e noi diceva Zanzotto quasi senza accorgercene le ripetiamo lo diceva in un'intervista è un ripetere un riandare a una sorta di coine collettiva come se fosse un patrimonio comune a una coine generale la lingua di Dante talmente radicata nella lingua degli scrittori che si è fatta carne e sangue nella poesia del novecento incontriamo gran messe di dantismi anche inerziali quasi inconsapevoli già depositati nella memoria letteraria collettiva termini generali con i quali l'autore forse non ha voluto riconoscere espressamente questo o quel singolo verso dantesco beh non saprei di fatti dire se accogliere tra i dantismi infernale per esempio quell'aggettivo ferrigno aggettivo che poi è di sbarbaro di montale di mario luzzi oppure un latinismo forte dantesco come angue che è usato da corazzini da ungaretti da montale oppure un verbo come di rocciare che c'è del dantesco ma che è di montale di luzzi oppure un verbo come di vallare molte volte usato da montale oppure quel largamente usato ma è dantesco spera del sole spera che è di montale di luzzi oppure in luzzi macula ingemmare aduggiare balestrare eccetera eccetera ma con maggiore certezza di dantismo intenzionale sono quei dantismi che compaiono in sedi esposte come la rima oppure quando si tratta di un apax ecco allora non abbiamo dubbi e sembrano subito più evidenti quei dantismi quando un poeta opta per un registro marcato innovante realisticamente drammatizzato per esempio dante resta il modello principe resta la spinta stilistica che porta a forgiare o a ripetere verbi dotati di singolare tensione ed energia quelli del dante innovatore quando dante esprimeva l'azione nei suoi verbi molti nei suoi verbi attraverso il suo contrario corretto dal prefisso dis dislagare disgroppare dismalare disnodare disgravare dislegare disnebbiare disviluppare eccetera eccetera e aveva poi l'ardire di foggiare denominali molto audaci alleluare indiarsi indiacarsi indiacarsi ingigliarsi ingradarsi inventarsi quei rimandi frequenti ecco potrei farli a quei verbi parasintetici con derivazioni prefissali come appulcrarsi incelarsi indiarsi ingigliarsi quelle voci formate sui possessivi immiarsi intuarsi inleiarsi eccetera sugli avverbi indolarsi insemprarsi sui numerali intrearsi incinquarsi eccetera eccetera montale di questo non si dimenticherà non si dimenticherà di questo ardire negli ossi di seppia sono molti questi verbi parasintetici a prefisso in c'è addirittura un apax infinitarsi in montale che fa venire in mente l'infuturarsi di Dante nel paradiso che è poi ripreso in questo infinitarsi in satura ma è poi già in Pasolini nelle cegnerie di Gramsci ma in satura incontriamo indiarsi millarsi millarsi non in satura nel quaderno di quattro anni di quattro anni insomma dal novecento questi parasintetici di conio dantesco si incontrano talvolta anche in luoghi inaspettati e in poeti insospettati per esempio in un poeta in dialetto come Biagio Marin verbi come insielà insolarsi eccetera la memorabilità di queste neoformazioni le rendeva ben disponibili anche al rovesciamento ironico come capitò all'immillare ricordate ripreso da da Gozzano ridotto anzi calato questo verbo da paradiso 28 calato al salotto borghese di nonna speranza il gran lampadario vetusto che immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto fatto scendere questo verbo giù dai cieli dai celesti dialoghi tra Dante e Beatrice fatto scendere nel salotto buono ma con Gozzano si inaugura il Dante in controcanto sin dai versi giovanili di Gozzano per esempio nel componimento che proprio si intitola Dante 1910 compare nelle poesie sparse terzine di Gozzano in cui a contrasto con l'ode dannunziana dal titolo a Dante che compariva in Elettra e che tira dritto al sublime in Danunzio il Dante di Gozzano ora compare familiarmente tra le mura di una scuola tra un pedagogo fiacco che alterna il commento del poema sacro a delle prese di tabacco e che ha di fronte una scolaresca lenta e sonnolenta che cito si teglia e si addormenta si addormiva su di te commedia però fuori la primavera sorride pel vano azzurro delle due finestre e soltanto là fuori Dante farà sentire la sua voce non al chiuso ma nel cielo terzo nel fiato nuovo dell'antica madre nell'eternità dell'universo nell'infinito mi parlavi o padre e altro Dante declassato ridotto nei termini di una conversazione borghese lo troviamo nell'ipotesi di Gozzano poesia dedicata all'ulisse re di tempeste come l'aveva chiamato d'annunzio ma ora è violentemente parodico ed è totalmente anti-dannunziano il re di tempeste era un tale che diede col vivere cempio un bel deplorevole esempio di infedeltà coniugale eccetera eccetera ma qui c'è Gozzano che sta spiegando la favola di Ulisse ad uso della consorte ignorante ad uso del cito la sua dolce metà come chiama Penelope ma né dolcezza di figlio né lagrime né la pietà del padre né il debito amore per la sua dolce metà gli spensero dentro l'ardore della speranza chimerica e volse coi tardi compagni cercando fortuna in America ecco irreverente affetto per il padre la pietas la pieta come dice Dante si trasforma qui in pietà in compassione per l'età avanzata di un genitore anziano e nel mentre il grande mito di Ulisse viene qui adattato alla mediocrità all'adorazione del denaro del mondo contemporaneo andare in America arricchirsi cercare fortuna lo scarto parodico è molto marcato è marcato pure nel radicale cambiamento del metro perché dall'endecasilabo della commedia si passa qui lo leggevamo prima all'ottonario di Gozzano un ottonario cantabile da canzonetta arcadica settecentesca ecco in millare ricordavo prima come esempio di dantismo elemento eterogeneo allusione stravolta dal contesto in cui era nata e fatta da Gozzano diventare facile e frusta reminiscenza scolastica reminiscenza liceale un sublime che viene diminuito e percorrendo questa modalità non si finirebbe di citare dall'intarsio di Gozzano che è stato un creatore di strutture a mosaico composte di tessere tutte colorate di molto Petrarca colorate di tanto Dante potrei fare un lungo esempio di riprese dantesche rileggere la signorina Felicita mi lusingò quel tuo voler piacermi che viene da paradiso 9 per far di sé favoleggiare altrui che viene da paradiso 2 e il dantesco in luogo aperto luminoso e alto in rima con smalto ritrovo subito nel verso da quel rifugio luminoso ed alto della villa canavesana cui Gozzano parla nel componimento che abbiamo appena citato un'altra memoria lessicale e ritmica dantesca che viene da per la tua fame senza fine cupa che è di purgatorio 20 e sarà in meco senza fine cive ancora purgatorio 32 giù per lo mondo senza fine amaro che viene da paradiso 17 risuona risuonano questi versi ma con ironico distacco nel Gozzaniano don mistero senza fine bello attraverso poi la mediazione di D'Annunzio e qui non si finirebbe di citare le mediazioni insomma Gozzano che intarsia in questi casi Dante soprattutto con come raffinata decorazione oppure questo è molto interessante oppure se ne serve per ridurre il valore metafisico alto metafisico del dantismo a una normale definizione della realtà di tutti i giorni per esempio nel magnifico poema le farfalle la creatura a volar su nata è una farfalla e non la creatura umana come invece significa in purgatorio dodici e quando parla di corpi grandi e corpi grandi è usato da Dante in paradiso per definire i cieli i corpi grandi invece nelle farfalle i corpi grandi che cosa sono? Sono gli uomini e le case che appaiono così come corpi grandi agli occhi di chi? Agli occhi di una cavolaia agli occhi di una farfallina comunque dall'elegante leggerezza gozzaniana si stacca decisamente l'espressionismo vociano che si è avvalso dell'ampio ventaglio stilistico della commedia per un moto opposto ai crepuscolari vale a dire l'uscire sì però uscire di forza con violenti traslati di consistenza quasi fisica di uscire dall'eleganza del linguaggio lirico dai suoi manierismi e penso ai frammenti lirici siamo nel 1913 anno della pubblicazione ai frammenti lirici di di Rebora e alla energia e alla tensione drammatica sprigionata da un linguaggio fonicamente aspro provvisto di violenta plasticità però la più forte attualizzazione novecentesca di Dante sarà promossa da Montale intanto a Montale Dante era apparso come colui che per primo aveva realizzato e così scriveva nel 65 aveva realizzato una cito grande prosa nascosta dentro le maglie del ritmo e delle rime che fu come sapete ambizione espressa in modo esplicito proprio da Montale che confessava di aver ricercato per sé la poesia che sia anche prosa ma preme ora innanzitutto rilevare che in Montale il dantismo non è come in Gozzano un fatto diciamo decorativo si tratta sempre di in Montale di profondi attraversamenti di riappropriazioni e dunque di dantismi che diventano tramite dell'interpretazione del testo di Montale e gli esempi sono sono tantissimi un esempio solo faccio Arsegno in Arsegno famoso componimento di Montale la tesa ti inghiotte dell'onda antica che ti volge e questo è una ripresa della schiuma antica dell'ostige così chiamata in inferno nove e questa citazione dantesca agisce come agisce come riferimento al luogo degli acidiosi e quindi segnala immediatamente l'accidia come cifra di arsenico come spia di una sua caratteristica Dante il dantismo in Montale non è occasionale quando siamo negli anni bui del fascismo e della guerra e Montale va a tingere all'inferno all'inferno in quanto cantica la più vicina al mondo e alla poesia contemporanea pervasa da quella sensazione di catastrofe di fine che trasmetteva e molto significativi sono i dantismi della bufera che è una raccolta messa insieme negli anni della guerra la faccio qualche citazione fucina vermiglia della notte memore della città di dite dalle mura vermiglie inferno otto insomma la bufera è una raccolta che si lega strettamente ai terrori della convulsione bellica legati all'irrompere del conflitto in rompono nel testo di Montale frequenti i i dantismi e soprattutto immagini infernali apocalittiche il lacerio di trombe che si destano i chiostri e gli ospedali i crolli di altane e di ponti oppure le sirene i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda oppure questa terra folgorata dove bollono calce e sangue nell'impronta del piede umano oppure ronzano elitre fuori ronza il folle mortorio e rompono in questa raccolta danze macabre come quella evocata in addio fischi nel buio e poi lo schianto rude i sistri il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa quel fuia tra l'altro proprio rimanda dall'anima fuia di inferno 12 ecco questa emersione di dantismi infernale è più che esplicita in questa raccolta di scherani il messo infernale della primavera itleriana la sardana infernale e con il dante infernale intanto si era incrociato anche il dante stilnovista emerso in un angelo scomparso assente ma capace di visitazioni cioè nella clizia la famosa clizia delle nuove stanze delle occasioni uno stilnovismo però che era anch'esso da leggersi come sarà nella bufera quale difesa e rifugio contro la tragica realtà incombente che stava tutt'intorno la guerra comunque la commedia più che la vita nuova a farsi riconoscere in montale come punto di riferimento costante questo sin dalla prima raccolta però sin dagli ossidi seppia dove è ben riconoscibile non solo Dante non solo riconoscibile nelle immagini e ce ne sono tante che non sto a citare ma soprattutto nella energia espressionistica sprigionante dal peso proprio fonico di quella silabazione degli ossi che era inconfondibile che era personalissima una personalissima musicalità sottratta a ogni flusso melodico che era aridamente è aridamente articolata in silabe storte e secche tendenti all'effetto fonetico aspro come se fosse scordato come se fosse antigrazioso e viene subito a mente una poesia famosissima come meriggiare e tutto quell'intreccio aspro e chioccio avrebbe detto Dante di sterpi schiocci serpi veccia scricchi cocci la rima infernale di nuovo sterpi serpi che sono tutti rimandi a inferno tredici alla selva dei suicidi ma è l'intera petrosità aridità arsura proprio sterposità dell'essico degli ossi di seppia a evidenziare il montale come diceva Luigi Blasucci discepolo del Dante Petroso il quale Blasucci sottolineava la presenza di un materiale lessicale prevalentemente immerso nel mondo duramente infernale della petrosità petraia pietraia mescheggia roccia impietrare di rocciare burrato nel mondo della aridità e della arsura greppi brullo arido secco arsiccio rovente bruciato nel mondo della sterposità pruni spini sterpi sterpetto i verbi scerpare schiantare ma basti per montale perché è di grande interesse anche il dopo montale ed obbligo citare innanzitutto il dantismo singolare e dissimulato di Vittorio Sereni Vittorio Sereni quel dantismo che lui a parte il dantismo qualche volta esplicito ma quel dantismo che lui spesso dissemina in ordine sparso e nasconde nel giro come se volesse diluirlo nasconde nel giro di più di un verso per esempio faccio solo un esempio in frontiera fu vostra la grazia dell'aria nel lume di primavera ora si turba lo splendido fervore ma se il lago riaccenna al sereno sono tre versi viene da paradiso no 19 lume non è se non viene dal sereno che non si turba mai che è una ripresa di vocaboli però in modo scalato in modo sciolto nel discorso una ripresa di lume di si turba di sereno dissolta in tre o quattro versi ho promesso di parlarvi soprattutto di lingua ma non resisto però dall'accennare a due temi fondamentali e molto rilevanti nella poesia del novecento il dialogo con i defunti e il tema del viaggio smarrimento quanto all'incontro con i morti molti sono gli esempi alcuni interpreti hanno in proposito rimandato per esempio a Fortini a una poesia le sette di sera sull'incontro con il fantasma di Vittorini oppure rimandato a Caproni una poesia dal titolo Palo che è dedicata a un incontro con un personaggio che è un po' poeta che Caproni non sa se sia ombra o uomo certo e questo ombra uomo certo tra l'altro è modellato proprio sul Virgilio quando in Inferno 1 verso 46 compare a Dante oppure hanno citato Sereni quell'intervista a un suicida negli strumenti umani un'intervista condotta con modalità come diceva Isella analoghe a quelle inaugurate dal più grande inquisitore di trapassati il Dante della Commedia il tema del viaggio dopo quello dell'incontro con i defunti il tema del viaggio che appartiene come sapete per esempio al grande Caproni è il filo il viaggio il filo conduttore di una raccolta del muro della terra il muro della terra dove si viaggia ma l'uscita è preclusa perché si è sempre destinati a incontrare il muro della terra la sua parete nera e come in Dante si si parla di un percorso tra i morti ma lo sbarrito viaggiatore qui è spogliato della certezza di salvazione non si respira in Caproni per esempio diversamente da quello che succederà poi nell'ultimo Luzzi nell'ultimo Mario Luzzi ecco in Caproni non si respira un clima da purgatorio dantesco nel senso che non c'è speranza di un futuro il muro della terra è un ostacolo impenetrabile nega ogni sconfinamento ogni fuga e neppure una scoperta di una luce di un paesaggio no il poeta si colloca in un deserto in mezzo a territori inabitati irreali assurdi nebbiosi attraverso i quali il viaggio non avvicina a nessuna soglia a nessun luogo luminoso ma è sempre uno sprofondare nel buio ecco un viaggio senza prodo senza speranza di una luce ecco una inutilità della ricerca uno smarrimento anche in Mario Luzzi è centrale il tema dello smarrimento presento una poesia come quella di invocazione che dal titolo invocazione che è in primizia del deserto è un componimento per il quale giustamente Maria Antonietta Grignani citava l'incipit dell'inferno ma è tutta l'intera raccolta di Luzzi in primizia del deserto che è raccolta che contesta di radici di rami foresta inestricabile piena di pruni di sterpi di rovi secchi di grovigli che denunciano la presenza così ritornante nel novecento la presenza di inferno tredici della selva dei suicidi in Luzzi compaiono poi espliciti richiami danteschi in certi tipi allocutivi per esempio in onore al vero la poesia incontro e tu chi sei una persona vera o uno spirito che torna in sogno a questa volta e l'ora dice che si deve riprendere ciascuno il suo cammino in questa tratta d'anime e di spoglie Dante e vedi altri tre versi di Luzzi nel magma la raccolta la poesia si intitola nel caffè perché non parlare un po' tra noi mi dice uno forato nella gola premendosi una garza solo in cao nel Luzzi ultimo invece saranno più evidenti gli influssi del paradiso in raccolte caratterizzate da fulgori da incandefenze della luce ho fatto prima il nome di Giorgio Caproni ma ci ritorno un momento perché il suo dantismo è multiforme non c'è soltanto il tema il tema del viaggio c'è tra l'altro nel c'è quel ben noto momento stilnovistico nel seme del piangere e accanto ai temi si potrebbe scendere a richiamare concordanze più 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 minute ad esempio le tante rime dantesche a cui Caproni rende spesso omaggio esplicito ma non soltanto in questa raccolta nel seme del piangere ad esempio rime come terra guerra sorte morte ritroverai in resa missa l'ultima delle sue raccolte in una poesia non a caso intitolata fatalità della rima Caproni ha considerato la rima come elemento ha detto più volte portante portante e ha spesso lamentato di non essere compreso dalla critica che parlando di lui diceva ha sempre battuto quasi tutta questa critica in specie parlando del seme del piangere sui soliti tasti delle rime facili da canzonetta cioè il tipo cuore che rima con amore mentre il fondamento dice Caproni della mia musicalità non era un fatto di superficie ma musica di rime portanti cioè di rime che per esempio si guardavano al modello dantesco all'esempio dantesco vita smarrita selva dura oscura e volevo far notare anche che oltre alle rime sono dantesche in Caproni gli stessi titoli di alcune raccolte insieme a del piangere citazione di purgatorio il muro della terra citazione di inferno che era già in modo della terra dantesco nel titolo originario il titolo originario era orgoglio e dismisura che era una situazione da inferno 16 verso 74 altro richiamo rilevante a Dante questa volta al De vulgari eloquenzia nell'ultimo Caproni quando affronta Caproni il tema centrale della parola che è un qualche cosa di inattingibile e nel conte di Kevin Hüller compare quella bestia quella bestia ammirabile fascinosa mutante vana eludente dalle mille con torte tracce è preda che in sé sintana è tantescamente una pantera nebulosa che si inselva eh quanti richiami al De vulgari ma altri nomi vorrei fare altri testi analizzare di Giorgio Relli per esempio inoltrandomi in particolare nelle quella raccolta che dal titolo Sinoppie in cui la tessitura di Dante affiora di continuo molto spesso oppure parlare di versi di Edoardo Sanguinetti quante cose potrei ancora dire oppure i versi di Fernando Bandini altro poeta così importante del nostro novecento e poi aprire una seconda puntata per fare un altro incontro sui poeti di fine novecento ma devo chiudere e mi limito a fermarmi brevemente sul Dante nei versi di Giovanni Giudici Giovanni Giudici dove insieme ad altro si rinnova quel controcanto al sublime di cui abbiamo già parlato e che era già stato sperimentato agli inizi del secolo e qui penso ai momenti in cui Giudici ama esporre ripetere delle espressioni dantesche diventate già colloquiali del tipo quando scrive un verso come no gli occhi non vennero fino a me per li rami cioè voglio dire quel riferimento a un Dante vulgato quel Dante che ha fornito per secoli materia al parlare quotidiano da scendere per li rami appunto alle dolenti notte a coloro che sono sospesi natio loco senza infamia senza lode guarda e passa e via seguitando mi fa tremare le vene i polsi e cose di questo genere e Dante in Giudici come già aveva sperimentato Gozzano è esibito come materia frusta come materia molto riconoscibile Giudici pilocando proprio qua e là fera la galletta pelle come per acqua scura cosa grave Minfuglio Gibetto Burella Caribo Sene invece di vecchio Alleluando eccetera eccetera di questi frequenti e riconoscibili intarsi Giudici si serve per che cosa si serve per intensificare lo stacco tra la vita spicciola di un uomo comune di cui lui parla è un tema da lui svolto con molta insistenza questo stacco appunto tra la vita di un uomo comune e le voci letterarie e illustri che lui ripete a volte a tratti a sprazzi con voce dimessa con voce molto dimessa volutamente e chiudo l'indagine anche se come dicevo si potrebbe allargare di molto il coro di citazioni dal testo di Dante e non faremmo sempre altro che sollevare un sempre più largo e variato mormorio di una fitta e significativa intertestualità fornendo così l'ennesima prova che letteratura è che cosa continuità durata memoria riutilizzazione del già scritto ma insieme sempre ogni volta rinnovo Dante di Inferno 3 come l'autunno si levano le foglie eccetera famoso paragone forse non è colui che porge a Ungaretti la altrettanto famosa similitudine di soldati dell'allegria si sta come d'autunno eccetera eccetera ma Dante a sua volta già l'aveva cavata da Virgilio e Neide 6 che a sua volta riandava riandava Omero Ilia De 6 annotava Zanzotto forse la letteratura non è che una corrente di citazioni e recitazioni vocali scritturali visive sotterrane rasoterra e in piena luce in frammentazione di singoli enunciati o di comportamenti di codici la letteratura esiste quasi come invito a entrare in un coro di citazioni ma poi si sa che nella citazione mai ritorna il com'era vi ringrazio e al prossimo incontro